Ben trovati al consueto appuntamento con l'informazione di Telebari e Radio Bari in studio Silvia De Sandi. Un ottantenne è morto questa mattina a Bari mentre faceva il bagno sulla spiaggia di Torrequetta. L'uomo in compagnia del figlio ha accusato un malore a pochi metri dalla riva. Un bagnino lo ha portato fuori dall'acqua e ha tentato di rianimarlo ma non c'è stato nulla da fare. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno potuto solo constatare il decesso dell'anziano. I baresi non sembrano rinunciare alle vacanze in Grecia dopo la notizia del terremoto che ha colpito Koss. La situazione cambia per la Turchia. Bodrum non è tra le mete e scelte per l'estate 2017. Il servizio. La Grecia e la Turchia non contano i turisti in questi giorni ma i danni causati dal terremoto e dallo tsunami che hanno colpito di sorpresa i due stati nella notte di venerdì. Koss e Bodrum sono al centro della cronaca internazionale. La prima poco amata dai baresi e invece meta prediletta da chi vive nel nord Italia tanto che l'unico diretto è il Venezia Koss. La seconda è da sempre ritenuta un vero paradiso turco ma il suo porto turistico è stato distrutto e in molti dirotteranno i propri viaggi verso mete diverse. Più temerari i baresi che per le loro ferie hanno scelto la Grecia. Nessuna disdetta ad oggi in molte agenzie di viaggio della città anche se a dirla tutta non si registrano nemmeno nuove prenotazioni. Da Volotea il vettore che ad oggi detiene il maggior numero di collegamenti aerei tra il capologo pugliese e la Grecia ci fanno sapere che al momento la situazione è statica. Nessuno ha deciso di rinunciare alle mete già scelte e dalla Farnesina non è arrivata nessuna particolare comunicazione. Insomma le aree colpite al momento non sono inagibili ma non è escluso che la situazione possa cambiare nelle prossime ore. In molti hanno già lasciato la città intanto alla volta delle coste greche ma c'è chi aspetta di partire senza troppe ansie. State tranquilli? Sì siamo tranquilli anche perché siamo sul mare quindi a meno che non c'è uno tsunami. Penso vada tutto bene. Torna a Bari Goletta Verde l'imbarcazione di Lega Ambiente in viaggio tra le coste della penisola per monitorare la qualità delle acque. La situazione in Puglia non è allarmante ma alcuni dati destano preoccupazione. Sentiamo. Cinque tratti di costa pugliesi su 30 sono fortemente inquinati ma Bari e provincia non destano preoccupazioni. Sono solo alcuni dei dati raccolti da Goletta Verde l'imbarcazione di Lega Ambiente che si occupa di monitorare le acque di tutta la penisola. Le spiagge analizzate nel barese presentano parametri nella norma. Per il capoluogo è stato scelto un campione proveniente da una spiaggia libera all'altezza della Fiera del Levante. Tutto sommato positivo il bilancio nella nostra regione anche se restano alcune criticità soprattutto in corrispondenza delle foci di fiumi e canali. La Goletta Verde non fa solo un monitoraggio dei punti baleabili ma anche analizza il carico batterico portato a mare dalle foci dei fiumi, dei canali, dei torrenti perché secondo noi questi punti non devono diventare una fogna a cielo aperto. Ad allarmare la situazione relativa ai depuratori. Il 20% di essi è oltre i limiti di inquinamento. La Puglia è seconda solo alla Campania per le infrazioni legate alla cattiva depurazione. Le Gambiente ha dunque un appello da rivolgere alla regione. Chiediamo alla regione che si definiscano subito delle linee guida di un piano di gestione dei fanghi che nei prossimi anni grazie al potenziamento dei depuratori aumenteranno. Ieri sera in via Napoli un minorenne è stato investito da un'auto in corsa mentre attraversava la strada assieme a un amico. A colpirlo in pieno un uomo alla guida di una scoda. L'impatto ha danneggiato il cofano ed il parabrezza dell'auto. Restano ancora da chiarire del tutto le dinamiche esatte dello scontro. Immediata la chiamata al 118. Un'ambulanza giunta sul posto ha trasportato il minore al pronto soccorso. È iniziata questa mattina la festa dell'integrazione organizzata dal coordinamento migranti Puglia con il patrocinio dell'assessorato comunale al welfare della regione Puglia. Dalle 8 alle 12 molti iscritti al coordinamento si sono ritrovati in piazza Risorgimento dove era stata organizzata una raccolta di sangue in collaborazione con la FIDAS. L'iniziativa proseguirà per tutta la giornata con balli, musiche, assaggio di prodotti tipici, racconti e testimonianze. Parliamo di sanità. Quale futuro per l'emodinamica in Puglia? A distanza di mesi dall'approvazione del piano di riordino ospedaliero rimangono ancora aperti alcuni dubbi sul futuro di alcuni servizi. Uno di questi riguarda proprio questo servizio. Roberto Maggi. Un problema cardiaco, il tempo che scorre via è inesorabile, l'intervento teppestivo del medico che può salvare una vita umana. I laboratori di emodinamica rappresentano un presidio importante per i reparti di cardiologia e gli ospedali del territorio. Con un'angioplastica coronarica è infatti possibile installare uno stent nell'arteria ostruita che ha causato l'infarto. Il paradosso è che la distribuzione sul territorio barese mal si concilia con le esigenze di tempestività dell'intervento. Su Bari, infatti, ci sono otto emodinamiche per lo più concentrate sul policlinico di Bari. Di fatto, se si considera che parliamo di aziende diverse, l'ASL Bane dispone di una all'ospedale di Venere, che però è ancora sotto la spada di Damocle del piano di riordino ospedaliero. Mentre risulta carente nel nord barese, dove si considera la vicina Andria, e nell'area murgiana, dove le urgenze sono più vicine ai centri della Basilicata, ossia fuori regione. A questo si aggiunge l'inclinazione verso le case di cura private, sempre più riferimenti privilegiati per questo tipo di discipline. Da mesi si chiede chiarezza alla governance regionale, ma per ora da via gentile tutto tace. Giovedì, intanto, se ne parlerà in Commissione Sanità, con le opposizioni in Consiglio regionale pronte a dare battaglia. Giuristi al servizio delle imprese, l'anno accademico universitario 2017-2018 si aprirà con l'introduzione di un nuovo corso di laurea in Consulente del lavoro e Operatore di impresa in servizio. Non più solo avvocati, notai e magistrati, da settembre l'Università degli Studi di Bari apre le porte ad aspiranti Consulenti del lavoro e Operatori di impresa, due figure professionali, oggi più che mai richieste dalle aziende italiane. Viviamo un periodo in cui, abbastanza paradossale, in cui c'è un tasso di disoccupazione che vola a tassi altissime, addirittura del 35-36%, e le aziende invece richiedono personale specializzato. Abbiamo il 22% delle posizioni aperte all'interno delle aziende italiane. A firmare l'accordo ai giovani imprenditori di Confindustria Bari e Batte, del Dipartimento di Giurisprudenza, il corso triennale non è a numero chiuso e prevede nel terzo anno tirocini formativi presso aziende del territorio. Abilita a sostenere l'esame di iscrizione all'ordine professionale dei consulenti del lavoro e permette, inoltre, di proseguire gli studi universitari e accedere ai corsi di laurea magistrali a ciclo unico attivati dal Dipartimento di Giurisprudenza. Prevede appunto un'attività formativa sul campo obbligatoria che deve necessariamente completare il percorso di studi. E in questo Confindustria oggi mette a disposizione il proprio know-how, le proprie competenze, la propria esperienza per supportare l'università sia nella ricerca, diciamo nel matching tra l'aspirazione dello studente a svolgere un'attività di formazione sul campo e la disponibilità del sistema imprenditoriale ad accogliere i nostri studenti. Da Bari a Matera con un'antica locomotiva a vapore in occasione del Locomotive Jazz Festival le ferrovie Appulo-Lucane hanno rimesso in circolazione per un giorno un treno degli anni 30 completamente restaurato dalle maestranze dell'azienda a bordo. Tanti ospiti illustri, vediamo. Lo sbuffo di fumo nero, l'inconfondibile fisco a rievocare un passato ormai lontano. Avranno pensato di trovarsi sul set di Ritorno al Futuro i tanti curiosi che hanno visto una vecchia locomotiva attraversare i binari che da Bari arrivano sino a Matera. In realtà il viaggio nel tempo c'entra poco. Quella che si è messa in cammino dalla stazione di Bari Centrale verso il capoluogo Lucano è un mezzo storico delle Falle costruito nel 1931 e restaurato nel 2014 rimesso in moto per promuovere il Locomotive Jazz Festival. E infatti a bordo delle carrozze, anch'esse originali d'epoca, sono stati i musicisti ad animare il tragitto per i passeggeri. Così anche la partenza è stata salutata dalle note di Mirko Signorile che ha suonato un pianoforte che rimara a disposizione dei viaggiatori nella stazione Falle di Bari. Il treno è un mezzo per viaggiare e la musica è altrettanto un mezzo per viaggiare in qualche modo. Attraversare degli stati d'animo, attraversare, se vuoi, anche il tempo dei ricordi, ritrovare delle emozioni che sono un po' nascoste dentro di noi. Il fischio alla partenza invece è stato lanciato dall'attrice Stefania Rocca, capotreno d'eccezione, che ha recitato alcuni versi mentre controllava simbolicamente i titoli di viaggio dei fortunati passeggeri. Tutto questo mi ha fatto venire in mente poesia perché insomma è un viaggio nel tempo attraverso la musica, i luoghi che andremo a visitare e quindi ho pensato di così, delle piccole pillole di poesia al posto dei biglietti. Un tuffo nella storia per guardare con più attenzione al futuro. Così il presidente di Falle, Matteo Colamussi, ha salutato dalla stazione di Bari il vecchio treno rimesso a nuovo da una squadra specializzata dell'azienda prima di salire anche egli a bordo. Guardiamo verso Matera 2019 ma guardiamo innanzitutto a soddisfare i nostri oltre 4 milioni di utenti l'anno. Non mi rendo conto di quello che ho fatto e di quello che sta succedendo per me è un vero e proprio sogno che diventa realtà. Si è espresso così il cosentino Alessandro De Rose all'indomani del successo a Polignano a mare, unica tappa italiana della Red Bull Cliff Diving, il campionato mondiale di tuffi da grandi altezze, l'unico atleta italiano purgareggiando con tuffi dal coefficiente di difficoltà più basso degli avversari, ha ottenuto il primato davanti ad un pubblico composto da migliaia di spettatori. Il telegiornale termina qui, vi ricordo che potete seguire notizie ed aggiornamenti sul nostro sito internet www.televari.it Ed ora vi lascio al meteo. Un cordiale saluto da Alex Guarini di Trebi Meteo. Nel corso di questo martedì il gran caldo che ci ha interessato nei giorni scorsi concederà una tregua su tutta Italia grazie all'ingresso di correnti più fresche da nord che innescheranno una circolazione di bassa pressione responsabile di una residua instabilità al nord-est, sul medio adriatico ed anche sul sud-est con piogge sparse e qualche temporale. Ma vediamo anche il dettaglio relativo alla nuvolosità con un cielo ancora in gran parte sereno, poco nuvoloso sulle regioni meridionali e quelle del medio basso versante tirrenico della nuvolosità irregolare interessa ancora il nord-est e da seguire anche le regioni del centro. Ma vediamo quindi tutti i dettagli relativi alla nostra penisola con un cielo irregolarmente nuvoloso sulle nostre regioni nord-orientali ma anche sul medio adriatico e parte del sud aree interessate da piogge e anche qualche temporale. Locali piovaschi non sono esclusi anche sui settori alpini occidentali prevalenza di bel tempo su tutta Italia seppur in un contesto particolarmente ventoso sulla Sardegna con maestrale fino a 60-80 km orari e temperature decisamente più fresche ovunque. Con questo è tutto per aggiornamenti in tempo reale e seguiteci su trebimeteo.com Grazie a tutti! Grazie a tutti.